sono indicati nella proposta di legge, rinviare la discussione su questo argomento, invito che purtroppo non è stato raccolto e che quindi ha portato appunto la Commissione poi a dare un mandato al relatore a riferire in senso negativo. Però ecco, concludo, mi pare importante ricordare che quanto, diciamo così, si afferma per quanto riguarda l'attività di governo e l'attività legislativa siamo già in una fase attuativa di quella riduzione, riduzione che appunto sta producendo risultati importanti per cui gli obiettivi sono condivisi, si sta facendo, verifichiamo i dati mano a mano che arrivano e per il resto siamo aperti al confronto per poter migliorare la normativa in materia. Grazie. La ringrazio. Chiedo di intervenire l'onorevole Sorial. Prego. Grazie Presidente. Qual è il punto di tutto ciò di quello che abbiamo sentito? Che in realtà quello che probabilmente manca oggi in quest'Aula e che manca al Governo e alla maggioranza è la volontà politica di fare le cose, è la volontà politica di mettere in atto tutti quei provvedimenti che possono in un qualche modo creare dei risparmi per i cittadini. Ma non è solo la questione di risparmio in realtà, è una questione di status symbol, è una questione di un privilegio che viene riconosciuto tale anche dai membri del Governo, che viene riconosciuto tale anche dalla maggioranza, ma che non si vuole mai toccare perché poi diventa una questione quasi di principio, quella di avere la macchina sotto casa che ti aspetta prima di uscire da casa per andare al Ministero, o la disponibilità di un autista che al solo colpo di telefono sia disponibile a scarrozzarti in giro per Roma, ma senza entrare poi in quello che è la ragione di essere di questo status symbol. Andiamo a capire cosa succede negli altri Paesi, andiamo a capire quali sono le pratiche migliori che ci sono negli altri Paesi ed effettivamente una questione che si nota è questa. Alcuni altri Paesi hanno le auto blu, è vero. Molti membri di governi in giro per il mondo hanno ancora le auto blu, ma andando a vedere che tipologia di Paesi sono quelli, diciamo che non sono proprio i Paesi europei, sono Paesi che si trovano con alcuni regimi, sono Paesi che si trovano con alcuni governi imposti, sono Paesi in cui i rappresentanti delle istituzioni tendono a pensare di essere dittatori, di essere i primi all'interno della società, di essere i migliori. Parliamo di società che si ritrovano spesso in contraddizioni pazzesche. E se poi andiamo a vedere quello che succede invece nei Paesi vicini a noi, le pratiche migliori delle nostre ci sono, sono tutte pratiche migliori delle nostre. Andiamo a vedere il Regno Unito, dove esiste un sistema di carpool, esistono delle auto di servizio, si parla per tutta l'amministrazione centrale di qualche decina di autovettura messa a disposizione di tutti i ministeri e di tutta l'amministrazione centrale e che vengono utilizzate però solo dai ministri. Sottosegretario che magari oggi è qua, che potrebbe avere a disposizione un'autovettura, non avrebbe nel Regno Unito a disposizione un'autovettura. Dovrebbe venire in Parlamento con dei mezzi propri, con la bicicletta, con il trasporto pubblico, con quel trasporto pubblico che purtroppo a Roma non funziona proprio perché le istituzioni non lo utilizzano e quindi non capiscono le difficoltà che i cittadini hanno ogni giorno nel spostarsi verso il luogo di lavoro. Allora ci si ritrova nelle condizioni anche testimoniate, con varie fotografie, con varie immagini che hanno fatto il giro del mondo, di primi ministri, proprio anche quelli del Regno Unito, che viaggiano su compagnie di bandiera low cost, che si muovono su aerei assolutamente normali, che sono quelli che utilizzano le compagnie commerciali che utilizzano i cittadini, che prendono il trasporto pubblico locale, che utilizzano i mezzi pubblici, che si muovono con mezzi privati. Ma le pratiche migliori ci sono anche in altri paesi. Vediamo in Francia che c'è un altro sistema dove viene incentivato l'utilizzo anche lì del trasporto pubblico locale, dove vengono messe a disposizione solo le pochissime auto e devono essere prenotate dai singoli ministeri o dei singoli ministri. In Germania, dove i ministeri hanno un numero molto limitato di autovetture a utilizzo, ma anche lì è fermamente incoraggiato a utilizzare il trasporto pubblico o l'unico mezzo messo a disposizione in realtà in grande numero ai ministeri e all'amministrazione centrale sono le biciclette. Ecco, il Ministero delle Finanze tedesco, che ha a disposizione otto vetture che ruotano e che ormai vengono poco utilizzate, ha invece a disposizione una grande gamma di biciclette e ognuno è incoraggiato a utilizzare le biciclette per fare gli spostamenti che deve fare qualsiasi membro del Governo. La questione è che prima di essere un risparmio, prima di essere uno status symbol, quello dell'auto di servizio, dell'auto blu, è una forma mentale, è la forma mentale di un sottosegretario, di un viceministro, di un ministro che se deve fare un chilometro di spostamento da un ministero all'altro, visto che comunque tutti i palazzi delle istituzioni si trovano in quest'area centrale di Roma, non ce ne sono tanti che sono fuori, se deve fare un chilometro e mezzo, 500 metri, a posto di ragionare di prendere magari un mezzo privato, un mezzo pubblico, utilizza l'auto di servizio o l'auto blu. I numeri ci sono, perché se si vuole ragionare sulla quantità delle autovetture di servizio ci sono dei numeri, c'è quello che è stato concluso il primo novembre 2014 e presentato dal Formez, una società partecipata proprio dal Dipartimento della Funzione Pubblica di Palazzo Chigi, che censiva 53.860 auto detenute in proprietà o ad altro titolo, per esempio noleggio. E sulla questione dei leasing e del noleggio si potrebbe aprire un grande capitolo. Di queste alcune vetture erano blu, altre vetture sono utilizzate dalle amministrazioni locali, altre dalle ASL, ma il fenomeno è abbastanza radicato in tutte le amministrazioni che abbiamo. Chi ha più auto blu di tutte queste amministrazioni? L'80% delle auto blu censite appartiene proprio ai ministeri, con differenze tra i vari dicasteri. C'è il dicastero che è il maggior consumatore di autovetture e di servizio, che è il dicastero della giustizia, con quasi 800-900 auto. Abbiamo dicasteri come quelli del Ministero della Difesa, che ne ha 300. Altri dicasteri che vanno a diminuire. La questione fondamentale è che i numeri ci sono, ma manca la volontà politica. Manca la volontà politica di prendere un provvedimento come questo e utilizzarlo come possibilità per fare qualcosa in questo senso. Non serve un censimento completo che ci arrivi da Palazzo Chigi per dire che si può fare una norma fin da subito che vieti qualsiasi ministero da oggi a domani di comprare autovetture, che vieti qualsiasi ministero di prendere autovetture in leasing, che vieti a Palazzo Chigi di aumentare il numero di autovetture prese in leasing, così come è successo nel passaggio tra il Governo eletta e il Governo Renzi. La questione è semplicemente volontà politica, niente di tutto ciò. E la volontà manca nel momento in cui, al posto di prendere questo provvedimento, utilizzarlo per fare un dibattito, una discussione sana, in Aula, funzione di questa istituzione, funzione del potere legislativo delle persone che fanno parte di questa istituzione, si decide di interrompere completamente la discussione in merito, presentando in Commissione degli emendamenti che non modificano il testo, ma sopprimono gli articoli. Allora vede, sottosegretario, che manca la volontà di far qualcosa, manca la volontà di discutere, manca la volontà di portare avanti dei provvedimenti. E a dare forza a questa mia tesi la notizia di poco fa, che mi ha portato un collega, che la maggioranza presenta anche una sospensiva del provvedimento, proprio per non permetterci domani nemmeno di votare e mettere in discussione in Aula, in quest'Aula, che è il luogo giusto, è il luogo in cui bisogna esercitare la nostra funzione legislativa, un provvedimento come questo. Non serve dire i si farà, i faremo, i vedremo, gli aspettiamo dicembre 2015 per vedere quante autovetture ci diranno i ministeri, per dire un semplicemente basta autovetture di servizio, basta autoblu, basta comprarne di nuove, basta prenderne in leasing. L'autoblu non è solo un costo che si potrebbe revisionare, non è solo un costo che si potrebbe abolire. Io capisco la difficoltà che ha il governo Renzi a fare una revisione della spesa, è già il secondo commissario che viene in un qualche modo mandato via, direttamente o indirettamente. Capisco la difficoltà che ha il governo Renzi di andare a trovare gli sprechi all'interno dei capitoli di bilancio e cancellarli con un tratto di penna facendo dei provvedimenti che alleggeriscano il bilancio dello Stato nella spesa improduttiva, a favore di quella che può essere una spesa produttiva. Io capisco la difficoltà del governo Renzi di dire aboliamo tutti gli acquisti di autovetture, mettiamo in vendita tutte le autovetture dei ministeri che utilizzano i ministri, magari devolviamo questi proventi alle forze dell'ordine che poi si trovano nella condizione, come è successo qualche giorno fa, di dover ricaricare le batterie con un cavo elettrico proprio davanti a Palazzo Chigi. Paradossale. Paradossale perché nella nostra proposta di legge difendiamo i servizi essenziali che hanno bisogno di autovetture di servizio. Diciamo eliminiamole tutte, ma naturalmente ci sono dei servizi essenziali che non si devono toccare, quelli delle scorte, quelli delle forze dell'ordine, quelli dei servizi essenziali e assistenziali e tutti servizi che non devono essere toccati. Ma il governo allude giustificazioni e dimostra che tutti quelli che sono gli interventi della maggioranza del governo stesso sono solo mere giustificazioni a una mancanza di volontà politica. Noi auspichiamo allora domani, Presidente, di poter comunque portare avanti una discussione che sia fluida e proficua e non una discussione che ci porti a confrontarci con il muro del governo che a parole fa tanti annunci ma poi alla prova dei voti non fa niente. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. La PDL in discussione muove dal condivisibile obiettivo di contrastare l'abuso delle auto di servizio, oggi sempre meno giustificabile alla luce della pressione fiscale, dei vincoli di bilancio e dell'entità del nostro debito pubblico. Sfortunatamente la presente proposta è schiava di finalità ideologiche che hanno portato a un testo inaccettabile, da un punto di vista tecnico ancora prima che politico. Un testo disfunzionale, lesivo delle autonomie locali, che per essere corretto andrebbe cancellato e riscritto da capo. La questione affrontata non è nuova. Già l'anno scorso il governo e le Camere hanno affrontato con decisione il problema tramite la disciplina di quell'articolo 15,1 del Decreto Legge 66 2014. Quest'ultima norma prevede che per l'acquisto della manutenzione, noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non possano essere effettuate spese di ammontare superiori al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011. La medesima normativa prevede poi, come misura aggiuntiva, l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio di Ministri al fine di individuare il numero massimo per le auto di servizio ad uso esclusivo e per quelle ad uso non esclusivo, di cui possa disporre ciascuna amministrazione centrale dello Stato. Per le auto di servizio ad uso esclusivo il numero così determinato non può comunque eccedere la soglia di 5 unità. E i primi risultati sono già significativi. Nei dati disponibili risulta già una riduzione di 706 veicoli dal 2014 al 2015, tra Presidenza del Consiglio e Ministeri. Più complessa è l'operazione di censimento in atto a livello locale, operazione rispetto alla quale l'eventuale approvazione della presente proposta sarebbe assai intempestiva. Passiamo invece all'esame della PDL. Essa stabilisce, a decorrere dal 1 gennaio 2016, un generale di vieto per tutte le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.